Un altro giorno di emergenza totale per il coronavirus in Italia. In Lombardia è corsa contro il tempo per la realizzazione di nuovi posti di terapia intensiva, ma anche per aumentare il numero di medici, infermieri e quello delle apparecchiature necessarie. Dal governatore Fontana arrivano parole di speranza. L'aumento dei casi non è più un'impennata. Mi auguro che sia all'inizio dell'inversione, ha detto. Nel pomeriggio arriva a Milano Guido Bertolaso, incaricato di risolvere il caso dell'ospedale da realizzare nell'ex fiera, su quale non c'è ancora il via libera del governo. Il governatore del Veneto Zaia vuole che si effettuino i tamponi a tappeto per tutta la popolazione, a cominciare dal personale sanitario, sul modello di quanto è stato fatto in Corea del Sud per interrompere nuove catene di contagio. Ce ne freghiamo di chi ci critica. È una partita irrinunciabile. Pontiamo di farne 11.000 al giorno, ha annunciato Zaia. Oltre ai tamponi, ogni provincia avrà un ospedale dedicato al Covid-19 in vista di un probabile picco di contagi. Ed è emergenza in diverse regioni italiane. A Medicina nel Bolognese, un focolaio definito anomalo, ha portato alla chiusura del paese, da cui è impossibile uscire. Così come sono stati sigillati dal governatore della Campania De Luca, Ariano Irpino, nella Vellinese, quattro comuni del Salernitano. Nelle Marche, 29 positivi, tutti in una casa di riposo. A Roma, dopo lo Spallanzani, è entrato in servizio questa mattina il Columbus Covid-2 Hospital. L'ospedale è realizzato dalla Fondazione Polipnico Gemelli, dedicato ai pazienti affetti o ai casi sospetti di coronavirus. È cominciato a mezzogiorno il Consiglio dei Ministri, che deve varare le nuove misure di sostegno per l'economia. 25 miliardi di aiuti a medici, ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese. Il maxidecreto conterà più di 100 articoli. Alla Sanità ha previsto un finanziamento di 1,15 miliardi, un altro miliardo alla protezione civile. Ipotizzata una tantum per lavoratori autonomi e cassa integrazione in deroga per le aziende. Rinviate le scadenze fiscali, sospensione delle rate dei nutui. Per la prima volta il resto del mondo supera nel drammatico bilancio dell'epidemia i numeri di contagi e decessi della sola Cina. Segnale inequivocabile del ritmo con cui si diffonde il virus. Misure sempre più restrittive in Spagna, Francia e Germania, che decide la chiusura delle frontiere. Domani riunione straordinaria in video per i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea. Anche gli Stati Uniti, dove i casi sono oltre 3.400 e i decessi 65, annunciano nuove misure. New York, Los Angeles, lo Stato di Washington e la California decidono la chiusura di bar e ristoranti. Las Vegas spegne le luci dei casino. Non è stata sufficiente la decisione della Federal Reserve di tagliare i tassi per permettere ai mercati europei di cominciare la settimana senza gravi perdite. In profondo rosso tutti i listini europei, a cominciare da Piazza Affari. È tornato a salire lo spread superando in mattinata il tetto dei 270 punti. Affondano compagnie aeree e settore viaggi. Cala ancora il petrolio, attesa per le decisioni dell'Eurogruppo. Buongiorno dal telegiornale della Sette. Dunque iniziamo una nuova settimana. Naturalmente innanzitutto alle prese con i numeri. A dire la verità, la domenica che ci siamo messi alle spalle, proprio in termini numerici è stata la più dura, perché in sole 24 ore sono arrivate per il coronavirus 368 e decessi. Non era mai successa un'ondata così drammatica, anche da raccontare, che riguarda in particolare ancora una volta la Lombardia, che paga il prezzo più alto nella giornata di ieri, 252 vittime. È quello che è un miracolo quotidiano. Così le autorità lombarde continuano a definire la caccia a un posto letto. Un posto letto in più, una terapia intensiva in più, che può fare la differenza. In una fase in cui tutti parlano di un picco del contagio, nessuno si sbilancia nel posizionarlo, per così dire, sul calendario. L'evidenza della curva c'è, così come le differenze tra le diverse regioni italiane. E così andremo a monitorare anche quello che sta succedendo da nord a sud, così come lo vedremo nel resto dell'Europa e del mondo. Cominciamo però, dicevamo, dalla Lombardia, che fa in qualche modo anche da prima protagonista della gestione delle emergenze, per prima esperimenta e prova a capire quanto là ci si può spostare per arrivare a una tenuta del sistema sanitario che vacilla. Dunque, in collegamento subito, in diretta, come ogni giorno. Buongiorno a Raffaella Di Rosa, dalla Regione Lombardia. Raffaella. Buongiorno Cristina, buongiorno a tutti. Una corsa contro il tempo e insieme un piccolo segnale di speranza dall'analisi di quei dati, quell'analisi quotidiana della curva dei contagi, come sentiremo tra poco. Inizia oggi un'altra settimana difficile per la Lombardia, che si trova a gestire questa grandissima emergenza da coronavirus. Intanto, quello che accade oggi. Oggi, ci ha detto poco fa, il governatore Fontana, che è venuto a parlare con la stampa, è stata ufficializzata la nomina di Guido Bertolaso a consulente di Fontana stesso per l'emergenza coronavirus in Lombardia. e il ruolo di Bertolaso sarà proprio quello di organizzare l'ospedale, l'ospedale della Fiera. È un progetto che, se avevamo visto una fase di stallo con il governo, la Regione di contro vuole invece portare avanti e lo sta facendo. Abbiamo i padiglioni pronti, i moduli pronti. Sono ovviamente vuoti, nel senso che quello che si aspetta e quello che dovrà sbloccare Bertolaso è proprio questo. C'è il reperimento di quel materiale sanitario, i monitor, i respiratori. Tutto quello che serve per creare 400-500 nuove terapie intensive. Ma, ve lo stavo dicendo, ci sono dei volti che in questa emergenza sono costanti per noi, ci servono per dare dei messaggi positivi, e lo speriamo sempre, o negativi. Uno di questi è Fontana, che quotidianamente viene un po' a analizzare, soprattutto a quest'ora, i dati. Quest'oggi forse ha detto qualcosa di diverso, anche se è troppo presto per dirlo, perché bisogna aspettare comunque ancora 7-8 giorni per capire come sta andando. Però sentiamo cosa ha detto Fontana proprio poco fa. Poi torniamo. Credo che la notizia che bisogna continuare a far girare sia quella del rispettare rigorosamente le misure. A tutti i cittadini lombardi voglio ripeterlo. Io sono assolutamente convinto che se continueremo questa sorta di isolamento, se riusciremo a mantenere rigorosamente l'impegno di non incontrare la gente, e di non stare in mezzo alla gente, di stare nella propria abitazione, la cosa si risolverà. I numeri possono iniziare a darci ragione. Abbiamo ancora 3-4 giorni di tempo durante i quali si vedranno gli effetti di queste manovre. Insistiamo, perché credo che sia l'unico mezzo attraverso il quale si può arrivare a veramente una soluzione e ad impedire che il virus continui a circolare. Si potrebbe cominciare a dire che forse non c'è più quella progressione violenta che c'era nei giorni scorsi. Ecco, diciamo, non è più una progressione esponenziale. È ancora una progressione, ma non più esponenziale, che moderatamente ci fa piacere. Ecco, così il governatore Fontana, 7-8 giorni per realizzare questo ospedale dal momento in cui avremo tutto a detto. Quindi da una parte l'ospedale, dall'altra quell'altro punto davvero fragile, che sono le terapie intensive in Lombardia, davvero in affanno con i numeri che lo dicono, 767, il numero è il dato di ieri, di ricoveri in terapia intensiva. Stamattina abbiamo parlato con il dottor Presenti, che coordina l'unità di crisi delle terapie intensive in Lombardia e ci ha detto che abbiamo davvero poco tempo. Facciamo il punto proprio sulla situazione sanitaria in Lombardia. Il servizio di Giulia Lauretta. I lavori sono iniziati da tre giorni all'ospedale San Raffaele e in una settimana circa dovrebbe essere portata a termine la struttura prefabbricata di 600 metri quadrati che permetterà di raddoppiare i posti di terapia intensiva nell'ospedale milanese, che saranno così in tutto 40. Uno sforzo tutto privato, diventato possibile grazie a una raccolta fondi internazionale lanciata dalla influencer italiana Chiara Ferragni insieme al marito Fedez. Erano stati raccolti oltre 3 milioni di euro la scorsa settimana. Pubblico e privato in coordinamento, ha detto ieri l'assessore Gallera. Al Policlinico di Milano in cinque giorni sarà ultimata la sistemazione di 15 nuovi letti in una struttura in disuso. Ritmi cinesi, ma qualche decina di posti in più non risolverà l'emergenza. Ogni giorno facciamo il miracolo dei posti letti in terapia intensiva, spiega l'assessore, ricavandoli uno a uno in reparti poco usati, dimettendo il prima possibile i pazienti. Sembra non bastare mai a questi ritmi di contagio. 13.272 contagiati, 252 decessi. nella sola giornata tra sabato e domenica. In terapia intensiva, secondo l'ultimo dato, sono occupati 767 posti, 25 in più solo ieri. In meno di un mese la regione ne ha ricavati 476, ma ne servono molti di più. Il picco non è ancora stato raggiunto. Il problema principale è la velocità di acquisizione delle attrezzature e soprattutto del personale. Non si sblocca per ora il via libera alla struttura da 500 posti in fiera, ma un segnale positivo viene dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli, che ha detto che un padiglione allo studio si tratta di trovare personale e strumentazione. Oggi a Milano si insedia Guido Bertolaso. Lui, nelle speranze della Giunta, dovrebbe con le sue conoscenze internazionali trovare strumentazione e mezzi. Forse anche quelle mascherine che mancano e che hanno creato un altro caso tra Regione Lombardia e Protezione Civile, valutate del tutto inadeguate le 500.000 appena inviate. In Lombardia ne servono ogni giorno 300.000 per il solo personale sanitario. Bergamo continua a essere la provincia più in crisi, 3.416 casi registrati. Il sindaco Gori denuncia non bastano i posti nei cimiteri, il crematorio funziona H24. Segue Brescia, 2.451 casi, l'ultimo aggiornamento. Nei paesi di queste province la generazione dei più anziani è decimata. Questo fine settimana la città di Milano era deserta, come mai fino ad ora. La gente sembra avere capito, bisogna scongiurare che l'ondata di piena dei positivi arrivi nel capoluogo stando a casa. Allora, grazie dunque a Raffaella Di Rosa e buon lavoro. Abbiamo visto anche queste immagini, immagini da coprifuoco che venivano da Milano di coprifuoco ha più volte parlato nelle ultime ore, anche in toni piuttosto minacciosi, il governatore Zaia. Parliamo del Veneto, della terza regione più colpita per numero di contagi in questo momento, con una linea diversa rispetto alle altre. Proprio questa mattina Zaia ha voluto ribadire che la caccia anche agli asintomatici per quel che riguarda le evidenze scientifiche nelle mani della regione Veneto può fare la differenza. Ha fatto un esempio, proprio a quella comunità di Vo e Ugane, lo ricorderete, lì arrivarono i primi due casi. A quel punto tutto fu chiuso, furono effettuati i tamponi su tutte le persone che però riguardavano una piccola comunità di 3.000 persone e adesso, ha detto poco fa Zaia, Vo è il comune, la zona più sicura d'Italia. Ma su questi tamponi random che potrebbero riguardare anche le persone in fila, in giro per la città, per le città, c'è una discussione molto forte rispetto alle linee guida. Prima il personale sanitario, all'interno delle case di cura, i medici di base, i tamponi a tappeto del Veneto partiranno dal fronte più caldo. In caso di necessità, il monitoraggio sarà allargato poi alle strade, all'esterno dei supermercati, così come è stato fatto in Corea del Sud per provare ad interrompere possibili catene di contagio. Poco fa l'annuncio del governatore Luca Zaia. Noi pensiamo adesso con il nuovo progetto che vogliamo fare che le microbiologie del Veneto ne facciano almeno 11.000 al giorno. La partita dei tamponi è una partita per noi irrinunciabile. Mi spiace che ci sia qualcuno che dice che stiamo sbagliando tutto, ma noi sinceramente se ne strafreghiamo. La task force sanitaria vedrà l'impiego di specialisti, protezione civile, i volontari, sarà supportata dal reparto di microbiologia dell'Università di Padova con a capo il professore Andrea Crisanti, il virologo che per primo ha voluto la mappatura con i tamponi su tutti gli abitanti di Voo e dove il contagio è stato fermato. L'indagine molecolare sarà la stessa utilizzata per la comunità dei Colli Euganei. Dal paziente positivo verrà estesa a familiari, amici e colleghi. Attualmente in tutta la regione sono stati fatti 35.000 tamponi, 31.000 negativi, 7.000 le persone in isolamento fiduciario. Preoccupano le previsioni degli algoritmi sui nuovi casi in crescita. In Veneto i contagi sono saliti a 2.473, 156 le terapie intensive, i decessi sono 69, le persone dimesse 130. Non solo tamponi, il piano d'emergenza prevede di dotare ogni provincia del Veneto di un ospedale dedicato ai casi di Covid-19 in tutto circa 3.000 posti letto, riaperte anche, vecchie strutture ospedaliere ormai chiuse. A sud di Padova, l'ospedale di Schiavonia, riaperto dopo la chiusura a causa dei primi pazienti positivi, la prima vittima da quando la pandemia ha investito l'Italia, sanificato e svuotato dagli altri pazienti non affetti da coronavirus, sarà dedicato alle terapie intensive, supporterà anche eventuali emergenze dovute ad espandersi della pandemia come accaduto in Lombardia. Così il Veneto si prepara al peggio, ha detto questa mattina ad Omnibus l'assessore all'istruzione del Veneto, Elena Donazzan, in corso anche la sperimentazione di farmaci antiremotoidi per combattere il virus. Anche in Veneto c'è il problema nel reperire le mascherine, le esportazioni sono bloccate e poi l'appello per tutti, sempre lo stesso, state a casa, se non si seguono le regole, ha detto Zaia, si rischia il crash sanitario e il coprifuoco. Il governatore chiederà al governo di poter inasprire con nuove ordinanze le misure restrittive dell'ultimo decreto, messaggio non recepito ancora da tutta la popolazione, troppa gente in giro, lamentano i sindaci. E con un altro aspetto che poi riguarda tutta quella marea di persone che già dal primo allarme da nord si è spostato verso il sud, conti alla mano, quest'ondata potrebbe provocare proprio nelle prossime ore, nei prossimi giorni, un primo ritorno di contagio, quello che teme un sud che si muove anche per arginare, ciascuna regione si muove magari in modo indipendente, ma i varchi sono molti ed è difficile creare un cordone sanitario che possa fare la differenza per regioni alcune delle quali più di altre fragili dal punto di vista del sistema sanitario. Si prova a fare il possibile e ci sono già dei nuovi focolai per così dire individuati e una situazione di particolare emergenza in quest'ora ci riporta alle Marche. Nelle Marche dove i casi totali sono 3194, i positivi 1244, 120 in più rispetto a due giorni fa, c'è un piccolo comune che chiede aiuto subito. A Cingoli, poco più di 10.000 abitanti, uno dei borghi più belli d'Italia in provincia di Macerata, la casa di riposo per anziani è diventata un focolaio di infezione. 29 ospiti su oltre 40 sono risultati positivi. La situazione è tragica, dice il sindaco Michele Vittori. Mancano medici, infermieri e presidi sanitari. Ho chiesto l'invio di medici militari. Il contagio aumenta. Gli anziani non possono essere portati negli ospedali e il nostro è stato depretato di risorse da giugno. Altri cinque casi, più una donna che ora è ricoverata a Camerino, sono stati risultati positivi nei giorni scorsi. Nelle Marche c'è stata un'impennata della curva epidemiologica. Il sistema sanitario rischia il collasso. Abbiamo scorte di materiali sanitari ancora per qualche giorno, ma è veramente nulla, spiega il governatore Luca Ceriscioli a Omnibus. In Emilia-Romagna, seconda regione per numero di contagi dopo la Lombardia, il sindaco 37enne di Medicina, una cittadina dell'Interland bolognese, Matteo Montanari, non nasconde la sua emozione nel dichiarare zona rossa fino al 3 aprile il proprio comune dopo una crescita anomala del contagio. Come direbbe Vasco, siamo tutti qui impegnati a cercare di trovare un senso a questa storia. Vorremmo dare un senso ai nostri sacrifici, al nostro starci lontani, al nostro non poterci abbracciare e baciarci, alla sofferenza delle famiglie che in questi giorni hanno perso un loro caro. Ma il virus non ferma la sua corsa e preoccupa sempre di più il Mezzogiorno d'Italia. Dopo Ariano Irpino, il centro dell'Irpini, ha messo totalmente in quarantena dal governatore De Luca anche altri comuni campani diventano zone rosse. Polla, Atena, Lucana, Sala Consilinia e Caggiano, tutti nel Salernitano. Il provvedimento impone restrizioni importanti. Ad Ariano Irpino ci sono 29 contagiati e due morti, il maggior numero della provincia di Avellino. Il pronto soccorso ha riaperto appena tre giorni fa dopo essere stato chiuso per contagio, ma il personale è ridotto al lumicino. Nel frattempo, dopo l'allarme lanciato dal governatore Musumeci che ha invocato l'esercito, il ministro De Micheli ha firmato nella notte il decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia. Resta regolare il trasporto delle merci. In Sicilia si teme per la tenuta del sistema sanitario per gli arrivi dal nord. Un'emergenza che riguarda tutta l'Italia, soprattutto dopo la denuncia del sindacato medici ospedalieri a Anao. Oltre 2.000 operatori sanitari tra medici e infermieri sono stati contagiati. E da qui è evidente una lunga lista di ciò che manca. mancano i dispositivi sanitari, mancano tutti gli elementi che servono a proteggere chi ancora è chiamato a lavorare, ma mancano poi le strutture, dicevamo, i posti di lavoro, la ricerca quotidiana partita dalla Lombardia, ma che non può a questo punto che riguardare anche in termini di prevenzione le altre regioni italiane. Si considerano anche piani alternativi, anche piani di riconversione, addirittura recuperare strutture in questo momento di smesse o destinate ad altro. Tutto può servire per mettere posti e aggiungere numeri in questa corsa contro il tempo che dà risultati positivi. Per esempio, guardate, per quel che riguarda la capitale. E' stato realizzato in tempi brevissimi, in meno di una settimana, il Columbus Covid-2 Hospital è operativo dalle 7 di questa mattina, quando il primo paziente di terapia intensiva contagiato dal virus è stato portato nella struttura, trasferito dal Gemelli con un'ambulanza del 118. Il nuovo ospedale da oggi dovrà assistere i pazienti contagiati ed anche i casi sospetti di Covid-19. Avrà a disposizione 21 posti di terapia intensiva e 32 nei reparti di pneumologia, malattie infettive e medicina interna. Un passo avanti per Roma dove si stanno organizzando le difese se i casi di infezione nella capitale dovessero aumentare nelle prossime settimane. L'obiettivo della Fondazione Gemelli è di arrivare entro la fine del mese a 59 letti in terapia intensiva con 48 medici tra anestesisti e rianimatori e 180 infermieri. All'Istituto Spallanzato che in queste settimane ha svolto un ruolo fondamentale per il contenimento dell'infezione il bollettino delle 12 parla di 322 pazienti dimessi che hanno superato la fase clinica e che sono ora negativi. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici. Saranno 4 gli ospedali per i pazienti affetti dal Covid-19. Allo Spallanzani si aggiungerà la Columbus e una clinica privata a Casalpalocco quartiere sud della capitale e un quarto centro clinico che utilizzerà alcuni spazi del Policlinico di Tor Vergata. Ci si attrezza dunque per un'emergenza peggiore nel Lazio dove secondo l'ultimo bollettino della protezione civile ci sono 223 ricoverati con sintomi di cui 31 in terapia intensiva mentre 142 sono stati messi in isolamento domiciliare 396 sono quelli positivi 24 i dimessi perché guariti 16 i deceduti in una giornata in tutta la regione ci sono stati 79 nuovi casi in tutta la città e caccia intanto alle mascherine alla regione ne sono state consegnate 600.000 in attesa che vengano distribuite negli ospedali sono in un deposito controllato H24 dall'esercito ieri in un'insolita domenica pomeriggio Papa Francesco ha attraversato a piedi le strade deserte di Roma ha camminato lungo la centralissima via del Corso si è recato alla Basilica Santa Maria Maggiore e nella chiesa di San Marcello per pregare per la fine del coronavirus intanto la grande moschia di Roma il centro islamico culturale d'Italia dopo aver sospeso dal 6 marzo scorso tutte le attività religiose questa mattina ha chiuso fino al 3 aprile naturalmente si muove la politica è stato un lungo lavoro e soprattutto un lungo confronto per trovare più risorse possibili da immettere in quel decreto legge in arrivo ci sono le parole del Presidente del Consiglio che hanno accompagnato proprio dalle colonne del Corriere della Sera con una lunga intervista questa giornata più nera lo dicevamo i 368 decessi che rappresentano il 25% di morti in più nelle ultime 24 ore rispetto al totale Conte ha detto tra le altre cose che le prossime due settimane saranno forse le più dure ma anche le decisive per gestire l'eventuale picco del contagio in arrivo per vincere questa battaglia ha detto servono 60 milioni di italiani ma servono soprattutto i soldi i fondi che saranno divisi lo vedrete per le imprese per le famiglie per il settore sanità per la protezione civile ma anche per tutti quei dipendenti che ormai sono bloccati e non possono andare a lavorare è cominciato a mezzogiorno il consiglio dei ministri a conclusione della riunione tra il premier Conte e i capi delegazioni del governo presenti fisicamente solo una parte dei ministri il resto collegato in videoconferenza per ragioni di sicurezza un CDM che varerà la cosiddetta manovra cura Italia 25 miliardi di aiuti ai medici ai lavoratori alle famiglie alle imprese in attesa di conoscere le misure ufficiali dopo giorni di incontri e trattative con parti sociali e opposizioni il maxidecreto che conterà più di 100 articoli inizia a prendere forma secondo linee che si vanno a mano a mano definendo a partire dalla sanità a cui dovrebbe confluire un finanziamento di 1,15 miliardi mentre un altro miliardo andrà alla protezione civile con fondi per gli straordinari di medici e infermieri la possibilità per i prefetti di requisire ospedali e altre strutture per le persone in quarantena oltre che la possibilità di requisire strutture e mezzi per potenziare i reparti degli ospedali per gli autonomi compresi i lavoratori di turismo e spettacolo si ipotizza una una tantum da 5-600 euro mentre per le aziende sarebbe prevista la possibilità di usufruire di 9 settimane di cassa integrazione in deroga verso il rinvio le scadenze fiscali e sospese le rate dei mutui fino a 18 mesi misura estesa anche agli autonomi sarà attivato anche un fondo chiamato di ultima istanza di 200 milioni per chi nel 2019 ha guadagnato 10.000 euro e ha dovuto interrompere le attività a causa dell'emergenza per le famiglie invece congedi speciali retribuiti fino al 50% fino a 15 giorni o in alternativa un bonus babysitter da 600 euro che diventano mille per i medici e tecnici sanitari le stiamo costruendo in modo retroattivo dal 5 marzo assicura il ministro della famiglia Elena Bonetti misure anche per autisti tassisti e postini oltre a sostegno all'editoria siamo pronti se sarà necessario intervenire di nuovo per il rilancio del paese ha detto Conte in un'intervista al Corriere della Sera di oggi aggiungendo le garanzie previste nel nuovo decreto attivano flussi di finanziamenti che in rapporto al PIL sono analoghi ai 550 miliardi della Germania invita a non alimentare polemiche e sterile dice Conte e riferimento alla nomina di consulente di Bertolaso da parte della regione Lombardia dalle opposizioni intanto Salvini propone l'anno fiscale bianco al Premier col quale ha avuto un colloquio telefonico chiede certezze e tempi stretti e un contributo superiore ai 600 euro per gli autonomi stessa richiesta arriva anche da Italia Viva più tutele per gli autonomi liberi professionisti ditte individuali linea ribadita Conte prima del CDM Andiamo a capire come si muove anche l'Europa gradualmente giorno dopo giorno è una corsa che riguarda adesso anche tanti paesi europei si prova anche a individuare una linea comune quella che è mancata fin qui ed è stato piuttosto evidente domani una sorta di consiglio straordinario dell'Unione Europea a capi di Stato e di Governo ci sono una serie di punti all'ordine del giorno alcuni di quali ci riguardano da molto vicino per esempio la possibilità di garantire a tutti la fornitura di quel che manca quotidianamente anche nella gestione dell'emergenza e poi le decisioni dei singoli stati sono decisioni molto dure già definite così e annunciate così quelle di cui parlerà Macron alla nazione questa sera e parliamo della Francia ma insomma i confini si chiudono le misure si inaspriscono in una corsa contro il tempo che adesso riguarda tutti l'Europa che finora si è mosse in ordine sparso sta tentando in queste ore di mettere a punto tra mille difficoltà una strategia comune e domani ci sarà un vertice nella videoconferenza tra i leader secondo l'Eliseo già nelle prossime ore saranno varate misure restrittive alle frontiere esterne dell'Unione Europea anche se poco fa un portavoce della Commissione ha spiegato che chiudere i confini non è necessariamente il modo migliore di garantire il contenimento dell'epidemia visto che il virus è già presente in tutta Europa semmai il problema è far circolare le merci all'interno dell'Unione soprattutto cibo e medicine inoltre la Commissione ricorda che ai cittadini europei deve essere garantita la libertà di movimento e che i controlli non possono in ogni caso minare la continuità delle attività economiche ma la realtà è ormai un'altra Schengen è saltato e la libera circolazione delle persone è un lontano e anacronistico ricordo ovunque sono stati ristabiliti confini tra stati e tutti pensano innanzitutto a isolarsi lo hanno fatto subito i paesi del nord-est e quelli del gruppo di Viscegrad e ora in quarantena sono entrate anche Austria e Repubblica Ceca in Germania si assiste a un'impennata dei contagi e la Baviera ha dichiarato lo stato di catastrofe mentre il governo ha annunciato ieri la semi-chiusura delle frontiere con Francia, Svizzera Danimarca e Austria passano solo merci e pendolari sia per contenere il virus sia per evitare che i supermercati tedeschi vengano presi d'assalto dagli stranieri e naturalmente i controlli in queste ore stanno creando file e disagi Italia a parte la Spagna il paese più in difficoltà nelle ultime 24 ore ci sono stati quasi mille casi in più un trend negativo che dura da giorni e che ha convinto il governo a misure drastiche come la chiusura di tutte le attività non necessarie e il divieto di assembramento l'esercito è stato schierato in strada per farle rispettare il tutto ecco invece come si è risvegliata oggi Parigi la Francia che ieri non ha voluto rimandare le elezioni amministrative e che ha superato i 5.000 casi si prepara ora a inasprire i provvedimenti stasera alle 8 Macron parlerà alla nazione coordinamento europeo con Ursula von der Leyen Michelle e la cancelliera Merkel lavoriamo tra europei decisioni difficili nelle prossime ore ha scritto in un tweet il presidente francese secondo indiscrezioni potrebbe annunciare il confinamento della popolazione seguendo l'esempio italiano numeri preoccupanti arrivano anche da Olanda Belgio e Gran Bretagna qui il governo è convinto che sia meglio non bloccare le attività misura che sarebbe economicamente insostenibile ma semmai proteggere le categorie più deboli una strategia che tuttavia avrebbe un costo salatissimo secondo un documento che arriva dall'organismo esecutivo del ministero della salute infatti l'80% della popolazione verrà contagiata dal coronavirus i morti saranno oltre 300.000 e l'epidemia durerà fino alla primavera del 2021 non stupisce che i supermercati londinesi siano già stati svuotati e non stupisce che adesso gli occhi sono puntati anche sul resto del mondo dunque non solo l'Italia non solo l'Europa il contagio che si allarga e molti fondi che devono essere messi a disposizione la disponibilità arriva pochi minuti fa anche dalla direzione generale del Fondo Monetario Internazionale è pronto si dice a stanziare mille miliardi la necessità è di un'azione di politica monetaria coordinata ma anche dal punto di vista del risposta con regole certe condivise naturalmente c'è bisogno di lavorare tutti in questa direzione tutti mondo compreso dicevamo anche perché i numeri ci inducono a non guardare più solamente alla Cina è il giorno nel quale i morti ed i contagiati nel mondo del Covid-19 sono più di quelli in Cina lo rivela la John Hopkins University secondo la quale sono 3241 i decessi fuori dal paese nel quale il coronavirus è nato contro i 3213 di Pechino che oggi ha annunciato solo tra virgolette 14 nuove persone uccise dalla malattia 80.860 i contagi in Cina 86.000 nel resto del mondo un divario destinato a salire tenuto conto della compattezza con la quale Pechino ha affrontato il virus rispetto all'ordine sparso con la quale ogni paese sta prendendo le proprie decisioni fuori dal nuovo epicentro l'Europa il resto del mondo guarda gli Stati Uniti paese nel quale i contagiati hanno superato le 3.700 unità e le vittime sono 69 alcune delle città più importanti d'America hanno cominciato a chiudere progressivamente i luoghi di ritrovo a New York serrati cinema i bar i ristoranti Times Square rimane al buio così Broadway luogo simbolo dei teatri new yorkesi stesse disposizioni date a Los Angeles con in più come in Florida l'obbligo di non assembrarsi sulle spiagge si spengono le luci anche di Las Vegas a partire da domani due dei maggiori gruppi proprietari di alcuni dei più famosi casi no hanno decretato la serrata il coronavirus è stato al centro anche dell'ultimo dibattito rigorosamente a porte chiuse tra i due contendenti rimasti a lottare per la nomination democratica Joe Biden e Bernie Sanders entrambi quasi ottantenni la loro è stata una critica unanime a Trump per aver sottovalutato il pericolo e si sono detti favorevoli all'uso della guardia nazionale per blindare le zone rosse al termine si sono salutati non con il consueto abbraccio ma con un colpetto di gomito per mantenere un minimo di distanza di sicurezza mentre Biden e Sanders battagliavano dalla Casa Bianca prima Trump e poi il vice presidente Mike Pence preannunciavano nuove stringenti misure nazionali puntualmente arrivate questa mattina il centro per il controllo delle malattie il CDC ha annulato tutte le manifestazioni che comportano l'aggregazione di più di 50 persone fatta eccezione per quelle che riguardano scuole, università attività lavorative cancellate i grandi eventi sportivi quelli artistici e persino i matrimoni qualche giorno fa sempre il CDC ha pubblicato le proprie stime sulla possibile evoluzione del virus negli Stati Uniti con una forbice tra i 200.000 e 1.700.000 morti mentre i contagiati potrebbero arrivare a 240 milioni di persone fuori dall'America le notizie peggiori arrivano dall'Iran sono ormai 14.000 gli infettati un numero che potrebbe essere assai più alto oltre 700 i morti ma soprattutto il sistema sanitario del paese è allo strello il fronte più strettamente economico non basta la decisione di tagliare i tassi della Federal Reserve ci si chiedeva come sarebbe partita la settimana sui mercati finanziari i numeri sono impietosi a cominciare da quelli di Piazza Fale dopo l'allerta ai livelli massimi ormai ovunque per i mercati si apre la settimana decisiva e i segnali dalle borse sono pessimi con un crollo generale Milano perde il 10% come Francoforte e Parigi cede l'11% Londra il 7,5% in scia con le chiusure asiatiche già pesanti il primo effetto è che lo spread tra i BTP e i Bund tedeschi ha sfondato quota 250 il rendimento del decennale arriva al 2% e a metà mattinata la BCE tramite la Banca d'Italia ha cominciato a comprare i titoli di Stato italiani con importi doppi persino rispetto a quando il quantitative easing viaggiava 60-80 miliardi al mese l'impatto del virus sull'Italia potrebbe provocare un danno da 600 miliardi FCA ha annunciato la chiusura forzata di molti stabilimenti europei fino alla fine di marzo insomma la mossa sorpresa annunciata ieri sera dalla Federal Reserva Americana non sembra funzionare anzi l'azzeramento dei tassi col taglio di un punto e l'ordine di acquisto di titoli per 700 miliardi di dollari nei mesi a venire per frenare l'impatto dell'epidemia sull'economia d'oltreoceano invece di rassicurare ha spaventato gli investitori Fed si era coordinata con BCE Banca d'Inghilterra Banca del Giappone Banca del Canada Banca Nazionale Svizzera ma la tempistica dell'annuncio di domenica sera è stato letto come un provvedimento d'emergenza tanto che i future americani in picchiata sono stati sospesi praticamente subito il colpo di bazooka della banca centrale statunitense è stato definito una notizia fenomenale da Donald Trump che da mesi premeva in questo senso sul governatore della Fed useremo tutti gli strumenti ed agiremo in modo appropriato per sostenere l'economia assicura Jerome Powell ricalcando i toni di Mario Draghi all'epoca del salvataggio dell'euro nel 2012 ma Goldman Sachs prevede già una perdita del 5% del prodotto interno americano nel secondo trimestre dell'anno anche i dati della Cina preoccupano gli investimenti a gennaio e febbraio i primi due mesi dell'epidemia sono calati quasi del 25% rispetto all'anno precedente con un crollo delle vendite al dettaglio meno 20% e della produzione industriale meno 13,5% è il dato peggiore degli ultimi 30 anni aggiungiamo altri dati che ci arrivano dall'Istat nell'ultimo mese di inflazione che ha rallentato in tutta Italia secondo i dati diffusi nel mese di febbraio l'indice nazionale dei prezzi al consumo all'ordo dei tabacchi ha registrato una diminuzione del 0,1% su base mensile un aumento del 0,3% su base annua un segnale pericolosissimo per l'economia italiana lo definisce il Codacons mentre la Col di Retti chiede che in questo momento di difficoltà venga garantita la stabilità dei prezzi lungo tutta la filiera per bloccare ogni tentativo di speculazione a danno dei consumatori e degli agricoltori adesso prima di fermarci per la pausa pubblicitaria andiamo ancora a Israele che sta decidendo misure sempre più restrittive per cercare di arginare la diffusione del coronavirus deve fare anche i conti con una crisi politica che calendario la mano va avanti ormai da un anno tre elezioni nessuna maggioranza ancora per governare stamattina il presidente Rivlin ha dato ufficialmente in carico a Benny Gantz leader del partito centrista blu e bianco l'ex capo di stato maggiore ha assicurato che farà tutto il necessario per formare velocemente un governo ampio e nazionale Gantz a questo punto ha 28 giorni di tempo per mettere in piedi una coalizione noi invece pochi istanti per la pubblicità poi torniamo per cercare di mettere ordine anche al complicato caos sportivo tra poco di nuovo insieme seconda parte lo sport per cercare di mettere ordine soprattutto calendario alla mano con quel che è il tempo che è rimasto a disposizione per prendere una decisione sulle Olimpiadi di Tokyo che sembrano così lontane ma il 24 luglio non è poi così distante ci sono 120 giorni per fare la differenza con la difficoltà degli atleti ad allenarsi e il presidente del CIOBAC che domani avrà una riunione con i responsabili delle federazioni internazionali per capire in che direzione muoversi e poi c'è naturalmente tutta la stagione calcistica tante pedine da muovere una che può slittare questo è chiaro rispetto alle altre l'europeo di calcio perché la priorità resta quella di salvare i singoli campionati nazionali l'obiettivo di leghe federazioni europee è chiaramente quello di salvare coppe e campionati domani si terrà una videoconferenza con i vertici dell'UEFA in cui si discuterà la possibilità di rinviare al prossimo anno gli europei itineranti in programma giugno proprio per dare spazio a uno slittamento dei campionati nazionali tutti i calcoli per riformulare i nuovi calendari di serie A, B e C più le coppe europee sono però soltanto teorici restano al momento ipotesi perché non è possibile stabilire l'esatta ripresa delle attività legata ovviamente all'emergenza coronavirus riprendendo teoricamente la serie A il 2 maggio ci sarebbero 17 date disponibili fino alla fine di giugno per terminare regolarmente il campionato ne servono 12 da calendario più una per i recuperi di Inter-Sampdoria Atalanta-Sassuolo Verona-Cagliari e Torino-Parma ne resterebbero 4 per le coppe per giocare gli ottavi di finale i quarti in gara secca semifinali e finali sempre in 90 minuti o con la formula delle Final Four L'altra ipotesi per stabilire Scudetto e retrocessioni sarebbe quella dei play-off e dei play-out soluzione questa più rapida utile quindi se l'emergenza sanitaria dovesse protrarsi oltre i primi di maggio ma sgradita ai club per ragioni economiche le partite sarebbero di meno e sportive Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è stato chiaro non è possibile fare previsioni quindi non è escluso neanche un congelamento dell'attuale classifica con un effetto trascinamento del campionato attuale sul 2020-2021 e con le gare da recuperare distribuite su due stagioni diverse Non solo l'Europa ma è tutto lo sport a livello mondiale a convivere con l'incertezza dovuta alla pandemia Non ci sono certezze neanche sulle Olimpiadi di Tokyo in programma a fine luglio Domani il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ascolterà in videoconferenza le problematiche che saranno esposte dalle federazioni internazionali degli sport olimpici Anche qui i tempi si accorciano e nonostante i proclami del Giappone che considera i giochi intoccabili si potrebbe andare verso uno slittamento a ottobre-novembre o peggio ancora ad una cancellazione Staremo a vedere dunque ci fermiamo Consiglio dei Ministri terminato poco fa leggo dalle agenzie naturalmente informazione che resta con Tagadà e informazione telegiornale che torna questa sera alle 20 se volete noi ci vediamo domani alle 13.30 una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti